Soliti disservizi idrici, solite bollette salate. Esortiscono così i consiglieri comunali di opposizione a Sciacca nell'interrogazione presentata oggi all'amministrazione comunale. Evidenziano la pericolosità delle continue perdite idriche, ma anche i disservizi nell'erogazione che costringono le famiglie saccienze a ricorrere ai privati per l'approvvigionamento dell'acqua e sono così costretti a sostenere il doppio costo, quello delle autobotti e quello delle bollette aica. Un servizio, quello gestito dall'azienda idrica, che i consiglieri di opposizione, parliamo della coalizione messina di Maurizio Blò, definiscono pessimo, quasi inesistente. Tutto ciò aggiungono nel silenzio assortante del sindaco e dell'assessore ai servizi a rete, che vengono invitati dall'opposizione a effettuare ispezioni ai pozzi per capire quali siano le motivazioni di questi disservizi, ma anche per verificare lo stato in cui versano le strade interessate dalle perdite. All'amministrazione comunale l'opposizione ha chiesto dunque quale azioni sta ponendo in essere considerato che non si riscontrano né efficienza né economicità nell'attuale gestione del servizio idrico. Sempre dall'opposizione, il consigliere Giuseppe Catanzaro pone una serie di quesiti sulla stagione turistica ormai iniziata, che riguardano servizi essenziali come gli infopoint, i bagni pubblici, la pulizia, il decoro, ma anche misure forti e innovative sulla chiusura del centro storico rispetto ai modelli già sperimentati in passato e non ultimo un cartellone di eventi estivi di tutto rispetto. L'aggiunta termine che dell'ex esponente di Mizzica sarà in grado di voltare pagina in termini di accoglienza turistica o dobbiamo già rimandare tutto al 2024? Il consigliere Giuseppe Catanzaro si dice preoccupato e ritiene che il sindaco Fabio Termine, che continua a tenere anche l'importante delega del turismo, si sia esclusivamente dedicato negli ultimi mesi al carnevale. Non parla d'altro, conclude Catanzaro, mentre sarebbe importante apprendere dal sindaco i dettagli della programmazione delle state sacciense, dagli spettacoli ai servizi al turista, dalla pulizia, decoro e vivibilità del centro storico alle attività di promozione.